Crediamo molto in questa partnership stretta tra le aziende fornitrici di decorativi e bordi e le aziende che poi producono il mobile per la distribuzione perché sempre di più il mercato si evolve velocemente e noi dobbiamo rispondere alle esigenze dei consumatori con soluzioni tecnicamente avanzate e con uno sguardo al bello accessibile. La Surteco Italia rappresenta i marchi dell'azienda Surteco, Bausch-Linemann, Dolken, Kronik leader nel settore per quanto riguarda le superfici. Noi siamo quelli che vestono il mobile e danno al mobile la loro colorazione finale. Abbiamo deciso, nonostante il mercato non stia andando molto bene, di investire in modo molto importante in Italia offrendo un nuovo servizio, io lo chiamerei quasi un centro servizi, è un design center dove si può avere l'ispirazione in diversi modi, sia con strumenti software, sia che attraverso quadri, attraverso cose che noi andiamo in cerca di tutto il mondo per creare quella atmosfera che potrebbe portare a un'ispirazione di un nuovo decorativo. Abbiamo la possibilità con strumenti software molto molto importanti di poter sviluppare il proprio colore, ad esempio questo che ha una colorazione molto naturale potremmo riuscire in pochi secondi a farlo diventare blu piuttosto che verde piuttosto che giallo. E questo è quello che noi vogliamo offrire come centro servizi a tutti i designer che lavorano nel settore del mobile e delle forniture per la casa. So, TÜKSA, mia madre company, produce superfici, edges e design papers everywhere in the world, for every market in the world, but we all know here in Italy, it's the creative center of furniture for everywhere. TÜKSA, mia madre company, produce superfici, edifici, 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 edifici. TÜKSA, mia madre company, produce superfici, edifici, 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 edifici.